Vai! Questo te lo insegno? Sì, ma qui non ti vedo. Non ti sto vedendo. Ora ti vedo. Sticchiate la parola, ragazzi, mentre fate cose. Noi, più bene. Guarda, è impossibile! Guarda, Guido, guarda! Sì, non se no, va bene. Sì, sì, subito ci arrivi, bravo. Non c'è nessuno da cambiare, che ci mette a posto il dudo? Non c'è nessuno, non puoi più fare... Sì, ma il punto è che ce li devi avere i tre giocatori. Eh sì. Questo torno qui valgono. Pronto. Sì, la foto, la foto! Ok, la foto! Ok, la foto! Stai, stai, stai! Stai, stai, stai! Stai, stai, stai! Stai, stai, stai! Bene, almeno vedi, almeno vedi! Stai, 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 stai stai, stai. Molto tempo, eh! C'hai crampi? Alla, gol, gol, gol! Sì, 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 sì. Solo, Cri, solo. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.